no adesso ti vedo e ti sento e la mia giornata per questo è già migliorata del 70% facciamo solo un check audio ditemi se sentite bene me e ditemi se sentite bene Michael perfetto sì secondo me i volumi sono buoni attenzione scusami un secondo Arthur Dent dici contattare mai o dei sotto pressione tutta la vita se avete dei contatti per Mario di sotto pressione è uno dei miei eroi batteristici della vita Michael allora iniziamo facciamo un check così possiamo tagliarlo per poi quando lo pubblichiamo su youtube amici amiche di Cano Bisboc siamo su Cano Mattina e l'intervista di oggi è con Michael e Mirko essere umano di qualità fumettista disegnatore e possessore di un cabinato vedo lì dietro mi vuoi rompiamo il ghiaccio parlando di quel cabinato sembra che siamo nella stessa stanza ma con due videocamere diverse è bellissimo cioè ci sono quadri cabinati è vero cacchio è bellissimo è Castelvania il cabinato di Castelvania ma tra l'altro è bellissimo un cabinato single player di quelli di quei cabinati che non che io ho sempre apprezzato perché non davano per scontato che tu fossi destro erano dei cabinati che funzionavano bene anche se eri mancino era una cosa molto egalità egalità severissimo una roba molto corretta no esatto sì bello bello per chi non conoscesse Michael lui è il responsabile della pagina degli scarabocchi cioè ha fatto tantissime cose ha militato nei super amici che sono la cosa che mi ha fatto poi parleremo bene di super amici che mi ha fatto innamorare del fumetto italiano poi dei fratelli del cielo e adesso cura la pagina di mega successo in realtà su facebook e instagram degli scarabocchi di Michael e Mirko che ha recentemente pubblicato in tre giga raccolte di uscite su Bao l'ultimo dei quali è ce l'abbiamo anche qua ho fatto sparire Michael eccolo qua di nuovo Michael ricompari va pubblicato su Bao è anche fisico giustamente a me non è ancora arrivato il pubblico lo sta vedendo direttamente perché Daniele è stata così gentile da mandarmi il pdfone e lo potete trovare su Bao Publishing se mi mettete un link allo store di Bao in chat io moderatori vi voglio molto molto bene e Michael allora innanzitutto prima di parlare degli scarabocchi che tra l'altro sono il motivo per cui io e Michael ci siamo conosciuti ti ricordi la prima volta che ci siamo stati nella stessa stanza era perché io avevo fatto avevo messo musica alla presentazione del primo librettino degli scarabocchi giusto della prima autoproduzione sì vedi quanti danni che fanno i scarabocchi scusami un secondo devo andare ad aprire la porta parla parla degli scarabocchi mentre io torno subito no aspetto che torni tu mi vergogno parlare da solo in realtà sono io che sto suonando la porta di Fabio è tutta la vita che parlo da solo però farlo in videocamera è un po' più complicato soprattutto perché mi vedo è tutta la vita che parlo da solo dicevo ok e scusatemi avevo c'è questo fatto che sono live in diretta però ogni tanto suono alla porta e non posso non posso non aprirlo allora ci eravamo conosciuti alla presentazione del primo albo degli scarabocchi ma io prima di quello vorrei chiederti dell'esperienza e di quello che sono stati i superamici che sono appunto per me stati uno dei grandi incontri fondamentali della vita perché una volta una persona saggia mi ha detto che la vita è fatta di incontri e ognuno dei singoli membri dei superamici per me è stato uno di quegli incontri cosa sono i superamici come sono nati allora i superamici diciamo sono i nomi li conoscerete per motivi diversi oltre a no oltre a Michael e Mirko c'è Rattiker Dottor Pira LRNZ e Tono Pettinato però i superamici nascono da una sorta di incontri non fortuiti ma cercati in quanto noi il nome superamici è un po' una truffa nel senso che poi ci siamo chiamati così perché siamo diventati effettivamente amici ma differentemente da tutti gli altri collettivi di solito i collettivi nascono da una scuola da frequentare la stessa fumetteria da frequentare la stessa città persone nello stesso ambiente che si conoscono, fanno fumetti insieme e poi magari diventano insieme professionisti e continuano ad avere una sola bandiera noi in realtà eravamo tutti autori tutti indipendenti, tutti autori underground ed eravamo ognuno reciproco fan dei altri cioè gli altri quattro erano i miei autori preferiti e così era a giro e quindi ci siamo conosciuti più da fan reciproci che da amici cioè siamo cercati ecco non è che ci siamo ritrovati ci siamo cercati e poi scoperto di essere anche amici penso che superamici sia proprio la bandiera per dire siamo riusciti a diventare anche questo di solito si è amici poi si diventa professionisti insieme noi eravamo professionisti tra virgolette perché comunque in quei anni era impossibile con un certo tipo di fumetto essere professionista però eravamo autori e poi siamo diventati amici è una cosa all'incontrario come tutte le cose dei superamici e cinque tipi di fumetto differenti sono esattamente che negli anni si sono mischiati come tutti i collettivi nel senso che ognuno ha rapinato l'immaginario dell'altro ognuno ha tolto delle cose in onore dell'altro e sono cinque modi di raccontare il fumetto che però avevano come bandiera quella di rispondere a quel periodo storico in cui i fumetti erano la maggior parte autoreferenziali c'era un momento in cui andavano forte la maggiore i diari l'esperienza vissuta personale diciamo l'ambiente della cameretta che aveva prodotto indiscutibilmente le grandissime opere però erano anche periodi di bianco e nero di al massimo due colori invece i superamici hanno risposto eravamo all'opposto noi volevamo fare fumetti esagerati estremamente pop senza perdere però di vista la cameretta lì o lo stare male magari lo stare bene però volevamo essere esplosivi quella era la cosa che ci accumulava tutti quanti e questo si era concretizzato in una serie di zin possiamo chiamarlo hobby comics che tra l'altro io allora adesso a un certo punto mi assenterò perché andrò a prendere sia i ronfi sia l'ultimo numero di hobby comics che è bellissimo questo si era concretizzato con una serie di libri alla fine perché comunque hobby comics era una roba bella consistente che conteneva i lavori dei superamici e per me era era stato una sberla incredibile perché io prima di quello confesso non avevo una grande cultura del fumetto certo mi ero schiantato inevitabilmente contro quelli che sono i nomi quelli che erano ai tempi i nomi importanti del fumetto andavo di nascosto da Feltrinelli a vedere le tipe disegnate da Milo Manara avevo mi ero schiantato contro Andrea Pazienza sapevo chi era Ugo Pratt ma comunque non avevo fatto grandi letture e poi per il resto a me mancava molto la cultura del fumetto io quando mi è capitato in mano uno hobby comics ho detto aspetta un attimo fermi tutti che qua dietro qua dietro c'è un mondo profondo come quello dei concerti nel senso esattamente come quando scopri che ti piace il punk roba a casa vai a un concerto punk e noti che non è l'unico concerto punk della storia noti che ci sono due milioni di flyer attaccati al muro di roba che è successa di roba che succederà e per me questa è stata una roba che mi ha fatto veramente entrare nei fumetti io cito sempre uno dei miei lavori preferiti di Michael che è Gino la crepa guarda di due parole su Gino la crepa che intanto io vado a prenderlo direttamente intanto spiego cos'è hobby comics bravo poi rivemo a Gino la crepa hobby comics è stato praticamente la rivista ufficiale dei super amici una sorta di manifesto a fumetti di quello che volevamo fare è fatto a fumetti per l'appunto prima di dire noi faremo questo noi saremo questo noi faremo questo abbiamo fatto i fumetti poi siamo guardati indietro abbiamo visto è un manifesto postumo pensato dopo perché abbiamo deciso di mettere in pratica semplicemente quello che ci piaceva tutti assieme è una rivista perché innanzitutto era un omaggio al fatto che le riviste in quel momento non ci fossero più mentre noi siamo cresciuti tutti con le riviste questo è l'ultimo numero numero doppio 5 e 6 la rivista di fumetti tra l'allà che qualità esatto con tutti i personaggi che hanno attraversato hobby comics ridisegnati da LRNZ in copertina copertina clamorosa ed è una è molti diciamo che una delle medaglie che si appuntano ai super amici è sempre stata quella di avere lettori che prima d'allora non avevano letto i fumetti o non erano lettori forti dei fumetti tutti ci dicono molto spesso abbiamo lettori che per la maggior parte continuano a leggere solo il nostro tipo di fumetto poi quello che volevamo fosse un fumetto popolare che arrivasse a tutti e che avesse il meno paletti possibile perché il fumetto la potenza del fumetto è proprio quella di arrivare a chiunque rispetto ad altri ad esempio banalmente un libro tu per aprirlo non ti fa un'idea se non hai una forte idea dell'autore puoi leggere un paragrafo il fumetto invece lo apri e già bene o male ti rendi conto sei immerso dentro il fumetto è molto più veloce da leggere di un libro che non vuol dire che sia meno profondo meno ostico per esempio della poesia meno complicato da fare più economico del cinema e quindi la meravigliosità del fumetto il segreto del suo successo è essere molto economico ed essere accessibile immediatamente a tutti anche a chi per esempio non è anche chi in passato non era sapeva quasi leggere si può leggere un fumetto forse quasi anche da analfabeti se è un bel fumetto fatto bene e tutto questo noi volevamo fosse fatto un monumento e che fosse la chiave del successo il fumetto veniva usato per insegnare ai ragazzi a leggere poi libri da grande come Grimaldello per avvicinarti alla lettura e invece non abbiamo voluto dimostrare noi e tanti altri autori che quel Grimaldello era un Grimaldello d'oro e che era abbastante non occorreva fare la rapina alla letteratura si poteva essere lettori di fumetti al pari di essere lettori di cinema e che il fumetto avesse altre velocità rispetto alla letteratura ad altre cose e questo l'abbiamo sempre mantenuto volevamo fosse divertente il fumetto anche quando ti fa piangere volevamo fosse comico mentre c'era un apocalisse ognuno di noi poi ha la sua cifra le sue differenze il suo mondo però la somma di tutto questo era la stessa cioè basta col fumetto diciamo polveroso e che interesse a tutti come sono tutti i fumetti classici in realtà perché tutti i fumetti classici dell'Avocadoro erano fumetti piacevoli da leggere e che nascevano sulle riviste nascevano sui quotidiani erano fatti per accogliere un pubblico che in realtà fumetti non li leggeva di suo sì questo è proprio un tomo questo è è dove è nato il nostro gamma di Lorenzo ecco ok e gira la crepa è stato un fumetto giovanile forse uno dei primi fumetti che ho fatto ho fatto quando non frequentavo l'accademia nel senso che ero scritto l'accademia a Bologna ma mi guardavo bene ad andarci ed è una storia di una crepa sul muro altro non succede se non che è una delle storie più cinetiche che ho fatto e nasce dal è un omaggio alla potenzialità del fumetto della gabbia della didascalia della forma fumetto dell'uso del balone in un certo modo che permette di raccontare in realtà potrebbe essere un fumetto istruttivo da quel punto di vista che se tu sai gestire la gabbia sai gestire la didascalia sai gestire le onomatopee può dare vita a una storia proprio veramente inquadrando una crepa sul muro ed è un personaggio che abbiamo raccolto come nell'ultimo volume di hobby comics perché in realtà hobby comics raccoglie la mia opera più complicata e più che sono più affezionato che è vetro imprengibile che è la cosa più articolata e per l'ultimo numero invece abbiamo messo proprio le prime cose giusto per fare tutto all'incontrario come giusto che sia ma ti dico io quando avevo per me e questo spiega bene il motivo per cui per me è stato molto importante per la mia formazione hobby comics perché appunto io non sapevo niente di fumetto o meglio sapevo leggere e non mi facevano schifo i fumetti ma non conoscevo la mi mancavano le categorie mentali non ne conoscevo la grammatica e guardando i super amici c'era tutta era una serie di moduli come una serie di moduli universitari di diversi aspetti del del fumetto pira pira ti fa capire che se un occhietto lo disegni un pixel più a sinistra è diverso cioè pira è il per me è il capo dell'espressione nel senso l'occhietto disegnato piccolo di pira è una roba che io quando lo vedo disegnare dico wow così c'è la ricerca formale totale di 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 Lorenzo di Lorenzo Ceccotti c'è tutto quel sentimento nudo che io trovo incredibile di tuono di tuono pettinato c'è il tratto tu hai una roba io ho capito io ho un certo perché poi dopo che ho letto B-Comics io ho iniziato a rivedere tutte le robe che avevo tutte le robe bellissime che avevo letto in passato ho iniziato a capirle perché una roba bella del crescere è che tu puoi essere esposto a delle robe meravigliose senza senza dover per forza cogliere i motivi per cui sono meravigliose tipo io io Schultz lo leggevo lo leggevo l'ho letto come tutti ho capito migliaia di anni dopo la potenza di del tratto di Schultz del fatto che Charlie Brown sì sembra una roba semplice ma disegnalo esattamente e è il motivo per cui mi sono e tra l'altro un'altra delle cose belle dei super amici che a un certo punto tramite questa cosa tramite Matt Matt 64 che tra l'altro è un personaggio incredibile della scena 8 bit mi trovo a suonare alla presentazione di uno dei primi album degli scarabocchi e gli scarabocchi sono stati un altro shock per me perché ti ci vuole un attimino di tempo cioè sono e ti faccio lo intendo come grande complimento gli scarabocchi sono l'equivalente fumettistico delle bombe a mano nel senso è una roba è una granata a frammentazione di comunicazione e mi ci è voluto un po' per capirli realmente perché è una roba che sembra semplice ed è semplice ma che ci vuole una mano e un occhio e una sensibilità che hai tu e io trovo io tutti 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 i libri di Michael che ho letto dico sempre che sono un pugno nello stomaco con un guanto di velluto perché sono una carezza e un pugno in senso una carezza e un pugno ma in senso quantistico nel senso che è come essere accarezzati da un pugno ed è una cosa che puoi fare cioè c'è un come sono nati i tuoi scherabocchi cioè come è nato il concept degli scherabocchi è sbaglio come tutte le cose le belle nel senso che erano lo sfogo iniziale allora quando uno inizia a fare i fumetti inizia per emulazione no quindi cresci con l'uomo ragno cresci con gli x-men cresci con i manga che adoro tutti i fumetti che adoro e che ancora leggo anzi ora leggo forse più di prima e per emulazione vorresti scrivere la storia di Hulk vorresti disegnare Iron Man vorresti disegnare i cazzotti di cane guerriero è un percorso difficilissimo quello di diventare autore perché si nasce proprio cercando di imitare i propri vini nel fare questo poi si cerca un segno personale un segno che sia rappresentativo e noi già quando sono nati i scarabocchi avevamo il nostro stile perfettamente riconoscibile quello della linea con il testone con le bocche grandi con i personaggi senza sfondi e nel momento stesso però che avevamo eravamo riconosciuti quando lo vedevi dicevi questo è un fumetto di Michael e Mirko nella cameretta mi sono per sfogo ho fatto gli scarabocchi gli scarabocchi erano quei paletti che non sapevo dove nel cervello che mi sono tolto sono disegnati proprio con quei paletti ed erano una cosa esplosiva per me ero io che ridevo per primo e come tutte le cose che poi funzionavano lo nascostero seppellite perché era una cosa che tradiva e forse a mio avviso in quell'epoca mi sembrava che annullasse tutto il percorso che avevo fatto facevamo un libro di 16 pagine un librino 32 pagine per il lungavano nel 2000 e per piacere anzi lo volevamo firmare con un nome finto e andò a ruba completamente che proprio quella è stata la pietra che ho messo sopra i scarabocchi ho detto no questa roba deve essere seppellita perché annullava tutto quell'altra cosa per anni sono rimasti seppelliti fino a che poi per sbaglio l'ho riletti dopo 20 anni ho detto perché ne ero ero usciti 32 pagine mi hanno disegnato un centinaio 200 ho detto vabbè di pubblico su internet aggiungendo il rosso così senza motivo perché volevo un colore che fosse desse fastidio e che riempisse di colori la pagina perché la sensazione è vedere una cosa monocromo comunque è quella di vedere una pagina colorata e poi da lì dai 100 che ho deciso di pubblicare avevano pubblicati quasi 4000 più libri adesso non posso più smettere come tutte forse se non ci mettevo una pietra sopra in quegli anni sarei stato capace di smettere adesso non è più possibile a un fumetto di cui sono piacevolmente prigioniero che racconta giorno per giorno quello che mi succede soprattutto la cosa più importante è quello che non mi succede e racconta soprattutto quello che non mi potrebbe mai succedere perché mi hanno educato mi hanno cresciuto i scarabocchi mi hanno spiegato come le potenzialità del fumetto e l'ho capito addirittura tramite i miei fumetti quella è una cosa strana perché di solito uno attinge dai maestri ma lavorando su te stesso e facendo una cosa sfrenata ecco sfrenata poi scopri che in realtà ti stai insegnando da solo cioè apprendi da te stesso e dalle cose che stai raccontando una volta ero io che decidevo cosa parlavano i personaggi ma piano piano i personaggi hanno deciso di raccontare le storie loro ho imparato a ascoltarli a far parlare loro sono molto più divertenti di me questo lo dico ogni presentazione io prima di scarabocchi da ascoltarmi non c'era nessuno nel senso a meno che non mettevo una cassetta di legno di verdure in piazza e mi mettevo sopra a sproloquiare oggi invece molti spendono magari dalle mie labbra proprio però grazie ai personaggi a questi personaggi qui a loro devo quel poco di successo quel poco di rispetto quel poco di in realtà è vivo di luce riflessa che sono semplicemente un notaio che mette non nero su bianco ma rosso nero sul rosso le memorie di questi personaggi qui che da autore lascio liberi di esistere erano imprigionati nel nulla e li abbiamo tirati fuori e la storia di scarabocchi su carta è invece un altro tipo di storia perché è la storia di riportare al fumetto ciò che è nato dal fumetto non ci sono inediti nella raccolta dell'opera Omnia potreste leggerli tranquillamente o probabilmente li avete già letti tutti su facebook ma trasportarli su carta in ordine completo in ordine cronologico mi permette non solo di restituire al fumetto quello che è suo ma semplicemente di ripercorrere una storia unica divisa in milioni di scenette che poi è la storia di quel un cotore quel un cotore fatto della somma dei suoi libri è il tuo zibaldone sì uno zibaldone che però racconta in realtà una storia sola fatta di milioni di personaggi e milioni di segmenti ed è un modo anche per ricordarmi io stesso quello che quello che ho combinato reggendo il sacco questi ladri che sono i miei personaggi poi il tempo di lettura è differente quello da internet quindi tante cose che su internet sembravano più stupide sembrano più profonde su carte tante cose che sembrano più feroci su internet magari su carta sembrano più dolci la somma di queste scene produce un sentimento per esempio se io rido sergolatamente su una vignetta nella vignetta dopo mi prendo una tristezza in mane e per un libro ho questo saliscendi nemmeno regolare mi dà vita una terza emozione un'emozione di aver letto qualcosa è un po' come quando tu vedi cose clamorose dalla finestra non c'è niente che ti aspetti ti aspetti potrebbe essere uno che consegna dei fiori alla fidanzata tanto quando un omicidio è in piazza immagina che io permetto di guardare da questa finestra ai lettori per tanto tempo selezionando le cose più eccezionali che ho visto ed è la somma di tutto quello che ho visto dalla finestra che ci abbiamo infilato nel cervello scarabocchi è una cosa che forse finirò di capire quando finirò io insieme a loro è una cosa che mi impedisce di smettere di segnare è una cosa fatta di segno fatta di testo fatta della somma di tutte e due è il tradimento di tutte e due perché le parole sono scritte male i disegni sembrano scritti male i disegni sono scritti e le parole sono disegnate anche e quindi si fondono in una sola cosa è una cosa complicata che però a leggerla diventa semplicissima come tutte le opere che funzionano le opere che tu dicevi prima erano quelle che hai letto prima di leggere Super Amici erano opere come Schulz sono importantissime in effetti anche io quando leggevo Bonvi o leggevo Schulz non è che mi ponevo ah che grande grafica che linea perfetta che segno che sfondo che scelta però l'assorbibile venivi divorato come tutte le grandi opere poi dopo con le opere con dietro diciamo un vocabolario tecnico riesci a selezionare a capire la grandezza pure dell'autore però i personaggi bastano a se stessi le opere bastano a se stessi quello che funziona io trovo una cosa che trovo fenomenale io ho un approccio molto ludico alle cose che guardo che non è male come approccio sono contento del mio approccio ludico e guarda questa guarda questo scarabocchio io trovo che gli scarabocchi siano una delle mie il paragone che faccio con i scarabocchi con i videogiochi è una delle mie cose preferite dei videogiochi sono i minigiochi sono cioè ogni scarabocchio è una roba tipo WarioWare dove hai ti viene tirato in faccia e ha un e ha un layer importante cioè impara a disegnare con gli scarabocchi il triangolo e poi guardi il triangolo e poi c'è scritto fine è una cosa così e c'è e tra l'altro si vede è un triangolo però da un lato esatto un triangolo esatto ma poi si vede da un lato si vede proprio uno specchio della tua vita della tua vita interiore ed è una roba che mi affascina perché io trovo parlando con Lorenzo Ceccotti Lorenzo mi ha detto una roba molto romantica che ogni disegno è un miracolo nel senso che cioè il fatto che l'hai fatto tutto di seguito tutto giusto non l'hai rovinato non l'hai sbagliato un disegno è un miracolo e tre disegni di seguito sono una sequenza di miracoli quindi è una cosa incredibile e io trovo che sì che ogni disegno sia un miracolo ma io trovo anche incredibile come in alcuni autori conviva una grande capacità nel disegno legata a una grande vita interiore perché tu puoi tu tecnicamente puoi essere il capo assoluto del disegno nel mondo ma puoi non avere niente da dire io ogni volta che sfoglio gli scarabocchi mi sembra di parlare con te perché sono veramente delle caramelle delle capsule così concentrate che sono veramente un riflesso della tua vita della tua vita intellettuale ed è una roba che trovo molto bella anche perché hai un bel cervello speriamo ma ti ti parlo anche ti tiro fuori un altro progetto recente che secondo me per voi è stato un progetto del cuore che è i ronfi e la super amicizia ed è un cortocircuito meraviglioso ti do solo una premessa una dei grandi benedizioni della mia vita è che sto riuscendo a interfacciarmi ad avere a che fare e a diventare amico o magari a collaborare con persone che sono state importanti per la mia formazione e qua ci sono i super amici che collaborano con Adriano Carnevali e fanno un albo dei ronfi che adesso vado anche a tirare fuori benissimo Adriano Carnevali è stato un pre super amico sono vari autori soprattutto non dico sconosciuti ai più ma semplicemente meno sannati su internet perché poi in realtà hanno avuto un successo spaventoso e lo hanno tuttora ma magari non passano tramite i canali ufficiali non sono quelli che vengono sempre menzionati nelle interviste non sono quelli che vengono sempre citati tra i mentori e questo tipo di autori abbiamo scoperto poi erano tutti i miti della nostra infanzia e della nostra adolescenza dei super amici in maniera casuale cinque persone che hanno avuto un background culturale diverso cresciute in cinque parti d'Italia completamente lontane eravamo tutti lontani chi da Roma chi da Bologna chi da Pisa chi da un paesino sperduto però avevamo i stessi miti uno di questi miti era indiscutibilmente non solo Adriano Carnevali ma i ronfi i ronfi è stato una lettura ma lo è tuttora io i ronfi come la pimpa sono fumetti che io leggo da adulto ma non perché mi piacciono i fumetti per bambini ma li leggo come fossero a volte dico sempre come stessi leggendo Selina e non dico stupidaggini non è una cosa che io per me mi ricorda la fanciullezza quindi c'è una marcorda e allora ancora mi diverto ripensando a quei vetri ambientati sono proprio libri fondamentali tuttora i ronfi sono dei personaggi incredibili una psicologia maestosa un disegno uso del colore incredibile sono una roba secondo me giapponese nel senso più giapponese che esiste sono perfetti sono milioni di storie non so quando è una fatta e non ce n'è una che fa un passo indietro sono solo sono inventure continue che si autorinnovano e i superamici e questo non potevano che non trionfare li abbiamo trionfati in realtà con Abicomics 3 e mezzo che venne regalato no non regalato quello era hobby 1 e mezzo che uscì per Bilbo e poi siccome è uscito dai radar Adriano Carnevale non abbiamo più ristampati ha deciso di ripubblicarlo ci sono delle storie nuove tra l'altro le storie nuove anche di Adriano la copertina di LRNZ che prima non c'era ed è un libro sì è una sorta di abbraccio a noi stessi e ai nostri miti però in realtà è un modo per far conoscere e riconoscere la potenza di un autore che è tuttora in edicola con la rivista sua Giocolandia con delle storie incredibili con dei poster giochi colori tra l'altro lui è un vignettista eccezionale umoristico e anche lavora con i cruciverba con un cervellone e poi quando lo conosci di persona te ne accorgi che tutti insieme queste cose guarda mi piacerebbe se tu intercedi mi piacerebbe tantissimo averlo un giorno come ospite qua che no mattina in questo stesso contesto sarà assicurato guarda fantastico tra l'altro vi ho messo il link alla pagina Etsy di di Adriano Carnevali dove potete comprare anche peluche peluche è bellissimo ma c'è di tutto potete prenderlo qua si trova ancora il suicidio spiegato a mio figlio chiede Arthur Dent no non si trova più nel senso forse qualche copia la potete trovare sul sito della Salda Press se cercate Salda Press il suicidio spiegato a mio figlio forse qualche copia non si trova più perché è stato tu parla io arrivo subito con il metodo primo mai il metodo primo mai consisteva nel fatto che una sorta di crowfunding diverso però nel senso che prima mettiamo in campo un progetto diciamo faremo questo libro così metti alcune tavole quelli che riusciamo a vendere in questo mese poi noi editeremo solamente quelle non verrà più ristampato quindi chi crede in quel progetto metteva i soldi prima sapendo di contribuire un'opera che se no non ci sarebbe stata e sapendo che avrebbe avuto qualcosa di speciale quindi se banalmente vendevi 32 copie poi l'autore faceva un libro per editare solamente 32 copie così non è stato mai perché con il metodo primo mai inventato da Rattiger se cercate sul sito trovate l'ultimo progetto è andato sempre bene abbiamo venduto tantissime copie forse anche più volte delle case di lavorare con una casa editrice però è successo che qualche liberia decidesse di comprarne 20-30 copie prima e poi per rivenderle dopo la salda per essere stato uno dei partner che ha sempre creduto in questo aveva comprato diverse copie quindi qualcuna potrebbe averne ancora cercate lì è l'unico modo insomma io qua ho tirato fuori anche questo che è un altro tuo lavoro potentissimo uscito per Coconino e non ho portata un altro dei tuoi lavori che ho amato tantissimo che sono gli archivisti arcanoidi ma possiamo parlare di tantissime sei un autore lo possiamo dire che sei un autore prolifico sì anche perché gli arcanoidi è l'edizione di un libro che ho fatto nel 2009 è uscito due anni fa anche i pink e punk è stato fatto in un mese e mezzo ho una serie di libri che sto centellinando già pronti negli anni che stiamo cercando di editare di far uscire ma anche perché in quei anni abbiamo deciso di fare cose che non erano per quegli anni fortunatamente o comunque erano talmente difficili dirompenti rispetto a quel periodo storico che occorreva aspettare questo è il secondo degli arcanoidi l'arcanoide parla proprio di un pianeta abitato da un mostro e non c'è nient'altro c'è solo questo protagonista su questo mondo desolato e c'è un lavoro sulle forme incredibile io lo trovo molto affascinante perché si vede ancora io se c'è una roba che ammiro e che apprezzo sono le robe che sembrano semplici ma non lo sono perché uno può vedere questa pagina e dire sì ok sono delle forme certo però c'è una una potenza espressiva cioè in quel triangolo messo lì per fare gli occhi trovo che sia tutto tanto 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 interessante sì questo è un metodo molto veloce di disegnare molto simile a scarabocchi perché anche se è opposto perché questo è un metodo quasi vettoriale rispetto a quello gestuale scarabocchi però agito con delle forme standard è un po' come quando giocavi da piccolo che c'avevi delle cose che dovevi mettere insieme per divertirti e ho deciso di usare una piccola palette quella di photoshop con poche forme e creare una storia quindi la velocità è incredibile nel farlo grandi rimonti questo però ti permette di creare una storia che come nei giochi che sono le storie più importanti che abbiamo fatto non sai come va a finire tutte le storie come gli arcanoidi l'arcanoide anche i pinchi e panti il papa di dio sono storie che ho iniziato a scrivere insieme ai personaggi che sono finite nel momento stesso che capivo che dovevano finire non c'è una sceneggiatura iniziale e questo è il massimo per me del poter lavorare essere lettore di me stesso quindi stupirmi nel frattempo perché se scriessi la storia prima starei semplicemente a mettere nero su bianco quello che ho già pensato che mi annoierebbe parecchio invece questo metodo che mi è autosorprendente secondo me è più funzionale rispetto a mantenere a mantenere un certo piacere del lavoro gli arcanoide e l'arcanoide sono due storie che vanno lette può essere letta prima una poi l'altra anzi in base a quale leggi prima cambia la storia perché hanno dei punti di contatto ed è un libro sì sono molto orgoglioso di quelle due opere è veramente bellissimo tra l'altro ti hanno fatto una serie di tributi un sacco di artisti ridisegnandoli c'era quel tributo allucinante fatto da Lorenzo con il suo sistema perfetto per ridisegnare le cose è anche di quello bisogna parlare ma senti tu che sei stato così letteralmente così importante per la mia formazione nel mondo dei fumetti io quando parlo con voi quando parlo con un qualunque super amico realizzo una cosa bellissima realizzo di essere ignorante io amo essere avere sapienza sui videogiochi su un tot di robe retro che mi piacciono ma non c'è nulla di più bello di avere trovato qualcosa che ti piace e nel realizzare di non saperne niente perché io ho realizzato grazie a voi che mi piacciono i fumetti e realizzo che ci sono centinaia di opere magari fondamentali che non ho letto che non ho visto eccetera se tu dovessi farmi un dirmi alcuni pochissimi fumetti fondamentali appescando da ovunque da tutte le ere nel senso cosa ti ha fatto innamorare del fumetto e come guida per innamorarsi dei fumetti il fumetto mi ha fatto innamorare prima Iacovitti e poi L'Uomo Ragno sono stati proprio i cardini della mia infanza però di opere se devo tirare fuori un'opera sicuramente è Gonagai di Devilman che è una delle opere più secondo me imprescindibili del fumetto e poi tutta l'opera di Tetsuka Blackjack di Tetsuka è uno dei personaggi più in cui il fumetto veramente esplode in tutte le sue potenzialità sono due fumetti giapponesi adesso sono 8 milioni le storie e libri che posso consigliare però sono proprio due che ci sono imbattuto poco tempo fa e e li ho riletti 8 milioni di volte soprattutto perché reggono diventano sempre più belli come tutti i classici e sono proprio le opere che consiglio che consiglierei adesso poi ci ripenso ne consiglio altre 900 ma siamo tutti ignoranti per fortuna cioè nel senso che non basta mai sono mondi così vasti che è bene che ci siano sempre capolavori segreti a volte ho scoperto per esempio grazie a Nitasio Valentina Melaverde che è uno dei fumetti che sono cresciuti le nostre generazioni genitori nostri magari forse i fratelli più grandi su Corriere dei Piccoli l'ho scoperto per dire l'anno scorso come ho scoperto Buzzelli con le nuove edizioni della Cocconino conoscevo Buzzelli di nome e così ma non mi ero mai avvicinato per questioni di edizione di prezzi di tempi di sai motivi che possono sono dei fondamentali incredibili cioè sono cose giganti di autori giganti che uno deve costretto a citare però io che ho una libreria sterminata e Camposologia 100 fumetti non mi ci ero mai battuto speriamo ci siano tanti altri testori nascosti anche nel passato oltre che nel futuro da scoprire però si guarda Devilman e Blackjack sono proprio due cose che mi hanno costruito l'impianto per scrivere e disegnare tu sai che io ho un lato museo in casa mia da un lato è qua è qua dietro ma l'altro luogo dove ho appeso più opere è il bagno io quando vado quando vado in bagno ammiro ammiro opere e tutti i giorni sto cercando il Devilman incredibile visto che stavamo parlando di super amici il Devilman fatto da Rattiger che è un Devilman che cita questa copertina qua una copertina incredibile di di Chaos guardalo qua e adesso trovo anche il Devilman di di Rattiger perché io quello lì ce l'ho e mi guarda tutti i giorni negli occhi quando faccio la pipì ed è una roba che trovo quindi bisogna il caos è incredibile quella disegnata da Palumbo Giuseppe Palumbo fuori scala è stata proprio una copertina sì una roba una roba fuori dal mondo devo andare non trovo non trovo non trovo il Rattiger di cioè non trovo il Devilman di di Rattiger ma vabbè avete capito il comunque parlando di ignoranza io voglio voglio lasciarvi con un pensiero positivo nel senso che un sacco di persone mi dicono non ti fa tristezza sapere che non potrai mai leggere tutti i libri che dovresti leggere non potrai mai ascoltare tutti i dischi che potresti ascoltare non potrai mai leggere tutti i fumetti così e io penso no cioè pensa che merda se fosse il contrario ok Michael hai finito i fumetti belli li hai letti tutti non ce ne sono più cioè l'opposto sarebbe orrendo esatto no no speriamo che sia che sia proprio impossibile come già lo è da colmare questa lacuna ma questo permette però anche di scegliere opere su altre opere ci permette pure di navigare di leggere i libri che interessano più a noi che ci incuriosiscono molto spesso tanti libri che mi vengono consigliati o film consigliati dagli amici guarda questo guarda quello anzi per me è demotivante a volte mi sembra un po' più preferisco fare delle scoperte personalmente proprio perché è divertente proprio quello che dici tu di non arrivare a fare una cosa che sia una cosa sempre più grande di te sì sarebbe proprio molto triste aver visto tutto e letto tutto sarebbe proprio la punizione forse l'inferno è così arrivi e hai visto tutto c'è tutto madonna bello perché immediatamente ne usufruisci immediatamente e poi inizia l'inferno allora nel frattempo io sto tornando un pochettino a sfogliare a sfogliare BA vi chiedo ai miei amici in chat di ripubblicare il link a BAO che ha pubblicato sta pubblicando la tua opera Omnia e quindi dopo aspetta cos'era non mi ricordo mai l'ordine sob arg e BA arg sob e poi BA bellissimo allora ti faccio una domanda divertente Michael perché è una delle parole che hanno il suono più bello del mondo che è onomatopea è una parola bellissima quasi come mariposa in spagnolo è bellissimo onomatopea e il fumetto è il regno dell'onomatopea e è noto che ognuno ha il suo approccio tipo Pira con i suoi che sono bellissimi però ecco tema Michael mi parli dell'onomatopea il tributo cioè i scarabocchi sono proprio i titoli di scarabocchi sono proprio onomatopea è proprio il tributo a quello che è il fumetto basic cioè il fumetto è quello che ti dicevo prima ci sono le parole ma potrebbero anche non esserci l'onomatopea è la cosa più vicina al disegno rispetto alla parola è una parola molto vicina al disegno una parola che infatti viene piacevolmente disegnata nei fumetti non viene scritta mai con un fonte viene proprio disegnata ed è una una parola estremamente innanzitutto simbolica ma anche in movimento lo stesso rumore la stessa onomatopea messa in contesti diversi crea delle situazioni completamente diverse ed è irresistibile è corta è breve è esplosiva è comica è buffa e in base a dove la metti cambia il senso di quello che sta succedendo per esempio una persona seduta in una stanza nella vignetta sopra lui sta a mangiare al tavolo e senti blam esplodere dall'idea che possa essere caduto un armadio sopra o possa essersi sparata la moglie o il vicino di casa nell'altra stanza oppure potrebbe essere mille altre cose è meravigliosa l'onomatopea non a caso quando viene raccontato il fumetto è raccontato con bang gulp crash e puff le onomatopee possono essere inventate devono anche essere inventate l'idea mia siccome ho inventato tutto mi piaceva mantenere le onomatopee classiche che legassero in qualche modo di più il mondo stranissimo al mondo più classico sono un po' la parola d'ordine salva vita di questo tipo di fumetti sono bellissima l'onomatopea lo sono ma stava vuol dire sto continuando sto continuando a sfogliare adesso adesso basta perché se no poi poi lo spoileriamo tutto e la gente non lo compra noi vogliamo assolutamente che voi sopportiate il fumetto in Italia in generale io vorrei che voi supportaste chi può tutto il fumetto e tutte le cose belle che c'è in Italia tipo Power Pizza Podcast che ha fatto che sta facendo cheers ciao amici di Power Pizza vi voglio bene c'è dietro Sio che è un'altra bella persona c'è dietro Sio c'è dietro Nicola Bernardi che è un fotografo incredibile e c'è anche Lorro che ha le orecchie piene di Lorro ed è una bella persona ciao Lorro e e insomma che bello parlare con te Michael l'ultima volta che l'abbiamo fatto eravamo eravamo a Lucca era più o meno un anno fa ed eravamo a Lucca nel frattempo sono successe cose nel mondo nella tua vita tu stai tu stai facendo una roba bellissima uccidimi pure se sei troppo privato dimmi di smettere ma stai facendo un ritratto al giorno a tua figlia si può dire questo? siccome no no è tutto pubblico è un progetto in famiglia fatto che piace condividere con gli altri si chiama quando muovi gli occhi ha iniziato ha iniziato a ritrarla nel momento che lei ha cominciato a vedere a seguire con gli occhi quello che succedeva quindi non dal primo giorno ma da qualche mese dopo e l'idea di un ritratto al giorno ma perché ha scoperto che col disegno conosce una persona e non a caso i primi disegni sono proprio tutti storti proprio non somigliano ed era una sorta di carezza in più che potevi fare con la matita e scomponendola il primo modo per conoscerla è stato proprio di ridisegnarla oltre che toccarla e tutto il resto però effettivamente il disegno ha un senso in più e poi per chi come me è nato col disegno ha bisogno di utilizzare quella cosa lì per comunicare mi trovo molto più a mio agio a parlare col segno che con le parole e i gesti soprattutto e è una cosa che poi ha preso la mano potrei interrompere in qualunque momento ma non ne vedo il motivo per ora è un modo poi di disegnare non da fotografia perché volevo mettermi anche dei paletti disegnare in movimento per quel che si può muovere una bambina piccola però nel quotidiano insomma usando tecniche completamente diverse da quelle che ho usato il carboncino l'acquerello l'olio il pennarello nel periodo del primo lockdown avevo finito tutti questi materiali ho cominciato a disegnare su dei fogliacci di carta con il pennarello quindi è proprio anche come viene rappresentato è una sorta di diario diario anche tecnico di quello che abbiamo vissuto ha uno dei progetti a cui sono più affezionato chiaramente sono disegni che rimarranno per lei che magari fra qualche anno non ne vorrà più sapere però è una cosa che intanto è servita tantissimo a me io l'ho trovato è una roba che seguo quotidianamente e che è una cosa che mi prende bene perché è un mondo è un mondo duro ma ma ci sono delle cose che che mi prendono bene e questa è una delle robe che mi prendono bene e ed è una cosa che in realtà è abbastanza chiave nel mio rapporto con il tuo lavoro perché il tuo lavoro parla ed è difficile secondo me cioè non è difficile da capire perché è immediato ma è una roba che nel corso degli anni continua a trovarci dei layer diversi perché cioè è davvero una carezza e un pugno perché è una cosa che parla di un mondo di un mondo difficile cioè c'è dell'esistenzialismo forte nella tua opera però al tempo stesso c'è anche un comfort come come se ed è il comfort di chi ti dice non sei da solo nel senso non ed è una roba che trovo molto potente nell'arte secondo me che sia musica che sia fumetto che a volte trovi tu magari solo da qualche parte trovi una connessione potente con una persona che non hai mai visto e che però dice ok ma non sono l'unico nella storia dell'umanità che è stato così o che ha avuto questo pensiero e io questa sorta di sentimento wireless mi la trovo di una grande potenza assolutamente è così cioè l'arte proprio serve non farti sentire solo io nella letteratura magari ero anima gemella di un autore che non solo non avrei mai conosciuto ma che non avrei mai potuto conoscere magari era morto 50 anni prima che è nato in un altro contesto sociale in un'altra nazione in un altro mondo eppure diceva delle cose a cui non avevo potuto nemmeno confessare a nessuno che pensavo io e questo invece ne metteva nero su bianco a modo veramente banalmente per non sentirsi solo l'arte ma più che altro per andare in comunicazione con persone che sono state prima e che sono state dopo e che soprattutto con persone che ci potrebbero essere che non esistono trovare il comfort in un'opera completamente diversa dalla tua vuol dire che comunque stai soffrendo un bel lavoro perché uno ti fa entrare nel privato di una cosa che sarebbe incomunicabile in altri modi cioè noi in momenti per strada cioè io aspetto che una persona prenda l'ascensore per prenderlo io o controlli sul pianerottolo se c'è qualcuno per non salutare quattro volte al giorno la stessa persona figuriamoci i muri che abbiamo quotidianamente invece con la lettura magari riesci a sapere quello che pensa il vicino di te è un miracolo vero quello dell'arte in generale la musica figurati sapere notte di cantanti del passato che ti dicono cose che sperimenterai fra due anni magari nemmeno adesso ok non è pazzesco quello io alcune robe hai detto una roba bellissima perché in alcuni casi perché tu magari ti imbatti scopri che ti piace l'arte o comunque ti trovi in dei contesti che ti espongono all'arte e capita molto spesso secondo me è inevitabile che tu ti trovi alle prese con delle robe che magari apprezzi e gradisci ma che ti parlano di delle cose ti fanno delle anteprime del futuro ti parlano di delle robe che non hai ancora provato che non hai ancora capito ed è per questo che si rileggono le cose e che sono puoi veramente avere un è letto in un libro come in un disco come in un quadro puoi avere un dialogo con un autore sono una allora io sto ragionando molto sul backup sul concetto di backup secondo me sono dei backup di sentimenti sono dei backup di concetti di pensieri che come ogni buon backup sopravvivono alla fine del del suo dell'hard disk nel senso che quando quando l'hard disk che in Hobbit smetterà di girare mi piace pensare di avere lasciato dei dei veicoli dei dei backup letteralmente di di quello che siamo stati e questo secondo me è molto potente e secondo me il il tuo backup di che c'è negli scarabocchi è forse il backup più completo e accurato che mi venga in mente levo cosa resterà di noi chi lo sa le nostre opere o le nostre ossa vediamo esattamente fratello il nostro tempo si va a concludere io parlerei con te per ore e ore e ore vi ricordo che avete abbiamo sfogliato Ba di Michael e Mirko degli scarabocchi di Michael e Mirko Ezio Dabao Publishing trovate il link in chat adesso e lo troverete anche qua sotto se state guardando il la trasmissione in replica su YouTube grazie grazie Michael per il per il tuo tempo grazie per tutto mi sono divertito tanto e ci vediamo presto se intercedi Pronobis con Adriano Carnevali mi piacerebbe tantissimo parlare con lui cioè Corriere dei P cioè c'è un sacco di roba di cui di cui parlare comunque se gli scrivi su Facebook è una persona disponibilissima perché un'altra delle grandi qualità di questi soggetti artisti mostruosi è quella di essere tutte delle persone estremamente modeste quella è una cosa che mi ha colpito di tutti i giganti che ho conosciuto del passato parlo del passato per me passato la mia infanzia non perché sono decrepiti anzi sono molto più giovani di noi sono tutti modestissimi quindi scrivere su Facebook se tu scrivi su Facebook un attore della mia generazione magari non ti risponde o fa nicchia un attore di quella generazione lì ti risponde volentieri e ci diventi anche amico quindi è una cosa che è possibile sfruttare comunque lo chiamo io bene grazie salutiamo anche Power Pizza ringraziamo MDC Illustration ciao Martina che anche lei si è abbonata grazie mille seguite anche lei qua su Twitch che fa anche lei disegna una ragazza che disegna benissimo fa delle illustrazioni molto belle con un sacco di cuore sono sicuro che ti piacerebbe abbiamo tante cose di cui parlare Michael in realtà anche in futuro secondo me se avrai voglia questa cosa potrebbe ricapitare anche per quello che mi stavi raccontando ieri su quella persona che conosciamo grazie ad Axel per l'abbonamento grazie mille anche a te grazie a tutti per essere con noi Ba gli scherabocchi di Michael e Mirko edito da Baopublishing grazie Michael ti voglio veramente molto bene e non vedo l'ora di poterti rivedere nel mondo reale un abbraccione Fabio ciao fratello ciao ragazzi